E bella a tutti ragazzi, sono Cilber e ragazzi sono qui oggi a presentarvi la top 5 clip di uno dei miei player preferiti su Fortnite perché per chi non lo sapesse ultimamente ho iniziato a giocare a Fortnite su Playstation 4 con mouse e tastiera per chi non sapesse come si fa a giocare con mouse e tastiera fatemi sapere se volete un video in cui ve lo mostro perché so che alcuni sarebbero interessati a imparare io ve lo mostrei in un video, quindi cerchiamo di arrivare a 70 likes facciamo così e io vi porto il tutorial su come fare raga prima di partire però mostrandovi le clip ci tengo a precisare che dovete assolutamente passare nel link in descrizione che trovate il link del canale di Twitch di Power perché ci tengo veramente tanto perché ho visto che hai numeri, non hai numeri che meriterebbe perché mi ricordo che quando ho iniziato a seguirlo io aveva tipo 20.000 iscritti e portava video su Ghost, io guardavo competitive su Call of Duty Ghost poi ha cambiato il canale, ha fatto mille inciucci, non si è mai capito poi cosa facesse poi alla fine ha quittato sia da Call of Duty sia da Youtube e ha deciso di streamare, inizia a streamare su Overwatch e Fortnite su Twitch quindi vi lascio il link, cercate di passare e nulla raga prima di partire ancora però vi lascio qua in alto a destra il sondaggio sul prossimo youtuber o streamer di Twitch di cui farà Top 5 e ci come di avere 70 likes io ve lo porterò potrei fare anche una seconda parte delle Top 5 clips sempre di Giorgio, ovvero Power e nulla raga io direi di partire con le clip raga fatemi sapere anche se voi le avreste messe in posizioni diverse io le ho messe in base a come piacevano a me, non in base alla valenza allora raga partiamo con la clip in quinta posizione che per me è una clip veramente assurda mi fa ridere, è una clip che in realtà non è assurdissima però mi fa ridere perché se l'ho giocata veramente bene utilizzando questa granata qua che è granata impulso, non mi ricordo come si chiama comunque è quella che ti fa, ti lancia in aria e poi guardate qua come trolle i nemici lanciandogli la boogie bomb e poi ovviamente lo uccide perché è sick, è as fuck raga quindi ora passiamo alla quarta posizione in quarta posizione abbiamo un full team 1 vs 4 con 10 di vita ho deciso di metterlo solo in quarta posizione perché i nemici erano effettivamente abbastanza nabboni cioè nel senso erano proprio nabboni 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 però se le ci sta veramente bene infatti con tante che aveva 10 di vita l'ha proprio spaccati di brutto c'è da considerare il fatto che effettivamente erano scarsi però se le ci sta veramente bene infatti come state guardando qua ha aspettato nei momenti giusti ha fatto cosa doveva fare e ovviamente qua si vede il fatto che fosse un competitive player perché vedete che fa tutto giusto nel momento giusto qua aspetta aspetta che l'altro si sporga e poi con 10 HP qua non ho capito come mi ha lasciato la capa se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti perché io non l'ho capito comunque ha fatto una grandissima mossa quindi grande giorgione e raga andiamo in terza posizione perché più si va avanti e più le clip sono sick allora qua ci tengo a precisare che questa clip qua si chiamava cavallo pazzo raga questa che qua mi ha fatto morire perché mi fa ridere come gioca perché vedete qua che proprio allora in pratica collega sia la skill sia il divertimento infatti lui gioca molto 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 tranquillo e fa il cazzo che vuole cioè vedete fa proprio il cosa vuole domina proprio è questo che mi piace di Giorgio Power Calandrelli non mi ricordo come si chiama mi pare Calandrelli però non sono sicuro mi pare perché io lo seguivo quando faceva competitive e nulla raga ora passiamo però alla parte caldissima ovvero la top 2 e poi top 1 raga questa qua è semplicemente assurda quando l'ho visto e ho detto cosa guardate qua con uno spacca di brutto raga fa non mi ricordo come si chiama in tipo sex qualcosa del genere comunque fa la mossa che ti slida indietro e aiuto poi lo spara in noscope col cecchino e lo distrugge mi fa morire mi fa morire perché gioca veramente tranquillo ed è quello che mi piace raga però passiamo alla prima posizione che è qualcosa di devastante quando ho visto questa raga aiuto ho detto aiuto guardate qua usa la granata poi fa l'occhiolino qua c'è teamwork e anche molta molta intelligenza di Giorgio anche se mi sembra che si incarti adesso in un attimo però raga rimedia tutto infatti vedrete cosa combina adesso dopo aver fatto quella kill lì dopo la granata facendo il noscope e poi avendolo trollato pure con l'occhiolino spacca tutti gli avversari non ci siamo già due ne fa ancora uno boom e poi mi pare che allora intanto questo qua se lo fa e poi si fa ancora questo spaccandoli di brutto e poi ce n'era ancora l'ultimo l'ultimo dei quattro che però mi sembra venga ucciso dai suoi amici quindi ottimo teamwork e ottima skill di Giorgio Power e nulla raga direi che come top 5 penso vi sia piaciuta se vi è piaciuta lasciate un bel like ci chiamo di arrivare a 70 vi ricordo di passare dal link in descrizione che troverete il link del canale Twitch di Power e nulla raga ci vi chiamo al prossimo video